Bitcoin inizia una nuova settimana con il verde e non siamo più abituati a vedere una cosa del genere però fa tanto piacere ovviamente anche se una rondine non fa primavera quindi bisogna un po' andare ad approfondire questo rialzo del re che reagisce in maniera abbastanza consistente quindi niente di esagerato però reagisce e soprattutto lo fa meglio di Ethereum e nell'ultimo mese e mezzo non eravamo più abituati bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video un video di aggiornamento di analisi ciclica analisi tecnica su Bitcoin Ethereum ma anche un video di analisi di quella che è una delle più importanti settimane di tutto il mese di settembre ma lasciatemi dire anche di tutto l'anno 2022 per le criptovalute perché avverrà il merge di Ethereum merge di Ethereum che è previsto per il 15 settembre intorno alle 7 del mattino speriamo sia un po' più tardi così possiamo seguirlo anche in diretta quindi fra due giorni circa e 18 ore ragazzi e questo è un evento importantissimo che va a cadere proprio a fagiolo con quella che è una delle settimane difficili anche per la comunicazione di alcuni dati sulla questione macroeconomica quindi Fed partiamo subito quindi con l'analisi di tutto quello che c'è da vedere oggi con questo super video di aggiornamento ragazzi e già insomma vi dico che in sostanza c'era anche da andare ad analizzare quella che è questa serie di news che secondo me sono molto rilevanti intanto qui abbiamo una notizia, una serie di notizie che potrebbero influenzare il mercato in questa settimana sono fortemente convinto che in pratica alcune di queste siano molto molto rilevanti partiamo dalla più importante cioè la comunicazione dei dati macroeconomici che ormai sono un driver dei mercati da qualche mese perché Bitcoin abbiamo visto si muove in pratica come Nasdaq più che come le altre cripto infatti c'è stata una sorta di mancanza di correlazione tra il re e la regina delle cripto quindi ed Ethereum. Allora partiamo da subito con la questione legata al tasso di inflazione che arriva domani. La comunicazione del tasso di inflazione con l'accelerazione del mese è quello annuale. Annuale che in questo caso ragazzi è previsto in ribasso rispetto al precedente precedente che era intorno all'8,5 e dovrebbe essere previsto quello annuale in ribasso di qualche punto percentuale intorno all'8%. Non solo ma anche il tasso di accelerazione del mese dovrebbe essere negativo quindi un rientro dei prezzi di pochissimo o comunque un rientro dei prezzi. Quindi già da domani 13 di settembre questi dati cambieranno in maniera radicale secondo me quello che è l'andamento della settimana dei mercati è le criptovalute perché se dovessimo stare in linea con le attese probabilmente il mercato seguirà la sua strada naturale quindi quello che sta facendo in questa fase ma se dovesse esserci uno cambio insomma in sostanza molto importante per esempio da con di questi valori allora la questione si mette male quindi sicuramente ci sarà volatilità probabile che la volatilità sia comunque presente anche a prescindere dal dato proprio perché i mercati sostanzialmente quando vedono questi momenti vanno su e giù soprattutto prima dell'uscita dei dati. Qualora dovesse esserci un dato migliore quindi un IPC sotto le attese intorno a 7,8 per esempio 7,5 i mercati secondo me accelereranno al rialzo e questo potrà dare una nuova limpa propria Bitcoin che si sta posizionando in vista di questa fase su uno dei livelli più importanti secondo me degli ultimi sei mesi che lo vediamo tra poco nell'analisi di oggi. Mentre per quanto riguarda poi altri dati è importantissimo andare a vedere le richieste dei sussidi di disoccupazione che avverranno proprio il 15 in giorno del merge di Ethereum quindi prima abbiamo il merge di Ethereum poi abbiamo la richiesta dei sussidi di disoccupazione che se dovessero essere bassi in linea potrebbero influenzare insomma un po' tutto tutta la settimana in maniera negativa o positiva ma sono collegati al tasso di inflazione diciamo che questi dati ragazzi non sono singoli non vanno presi singoli ma vanno presi nel complesso quindi se il dato dell'inflazione per esempio è peggiorativo o uguale e il tasso della disoccupazione è meglio del previsto in questo caso è negativo per i mercati perché significa che la Fed alzerà ancora i tassi a mano libera. Poi abbiamo anche però il venerdì l'indicazione del tasso di inflazione dell'Europa che è intorno al 9,1 ed è previsto uguale al 9,1 perché la banca centrale europea solo da poco si è mossa per alzare il tasso di sconto. Allora poi vi faccio vedere un'altra cosa cioè in base diciamo a questo tipo di percentuale di probabilità che la Fed continui la sua fase rialzista dei tassi è previsto un rialzo dei tassi di interessi di altri 75 basis point per il 90% insomma degli operatori. Quindi questo è molto molto importante perché significa che il mercato si aspetta già questo rialzo quindi qualora la IPC fosse più bassa del previsto. Un rialzo del genere potrebbe essere già abbastanza forte quindi il mercato potrebbe dire ok ci siamo stiamo rientrando potrebbe essere in questo caso magari potrebbe bastare meno tempo a fare tutto il a far rientrare tutto il meccanismo. Qualora invece il tasso di inflazione sia ragazzi più alto è inutile che ve lo dico ovviamente le questioni ci mettono male ma questo ormai avete imparato a capire. Allora queste sono tutte le notizie importantissime che dobbiamo tenere a mente questa settimana Merge di Ethereum il 15 e già da domani parte la sfilza dei dati macro con il tasso di inflazione quindi già da domani avremo un po' il motivo di base di questa fase. Ho fatto un po' la rima baciata. Allora partiamo subito dal grafico. Vi faccio vedere prima il grafico standard che guardiamo su Bitcoin che è quello relativo allo spot. Poi però vi faccio vedere il famoso grafico del future CME di Bitcoin quello ufficiale siccome Bitcoin sta praticamente seguendo un po' le sorti dei mercati istituzionali è un po' diventato anomalo da questo punto di vista. Allora vi faccio vedere intanto la questione legata al ragazzi allora sulla questione legata al ciclo annuale faremo un video interamente dedicato nella prossima settimana quindi su questo poi ne parliamo con calma perché farlo adesso secondo me non ha molto senso quindi la famosa questione se su questo minimo è stato chiuso un ciclo che è diventato ribassista qui o più o meno ribassista perché è un doppio minimo oppure è stato chiuso qui un ciclo annuale allora di questo ne parleremo secondo me in futuro nella prossima settimana con un video dedicato però al momento quello che ci preme andare a vedere a verificare questo movimento perché ragazzi è solo il mercato che darà risposta ai quesiti non esiste un modo di prevedere in anticipo quello che il mercato fa ma esiste la logica e il crearsi delle ipotesi, delle idee generali che poi possiamo seguire con molta velocità, molta chiarezza mentale e ci fanno fare i profit ma ovviamente è sempre il mercato ad indicarci la strada quindi è da questi giorni, da questa fase rialzista che otterremo risposta anche alla questione dell'annuale però nella prossima settimana gli dedichiamo un video proprio dedicato perché è una questione molto interessante anche perché ho un grafico nuovo da farvi vedere che potrebbe mettere in discussione il tutto comunque Bitcoin dal minimo del 7 di settembre ha iniziato quasi certamente un ciclo mensile quindi sul ciclo mensile ci siamo però qual è la questione ragazzi questo ciclo è iniziato il 7 e dura fino al 12 di ottobre probabilmente intorno alla fine del mese di settembre, la prima decade di ottobre la questione è che se fa parte di un annuale che è già girato a ribasso che è molto debole, questo mensile ha poca strada cioè questo rialzo finisce qui o comunque sta giocando le ultime cartucce perché poi torneremo a scendere probabilmente con aria di arrivo intorno ai 16-17 mila questa cosa è assolutamente possibile adesso vi faccio vedere anche un grafico di Ethereum che è andato proprio ad appoggiarsi sul livello di resistenza che già vi spiegavo la scorsa settimana nell'altro video che ha fatto una delle figure di inversione, questa è una delle figure di inversione terribili quindi deve essere annullata il prima possibile altrimenti è abbastanza brutta come figura, come pattern di inversione se Bitcoin lo segue finisce nello stesso modo quindi è appunto questi giorni che dobbiamo stare attenti ragazzi a questo trend perché solo, e dico solo, il superamento di questa fase qui 24,5-25 mila cambia l'esito di questa figura quindi questa figura attualmente due mensili che fanno parte o di un nuovo ciclo annuale iniziato qui che è debolissimo perché ha fatto un doppio minimo o di un nuovo annuale iniziato qui in questo punto si prende la sua direzionalità solo al di sopra dei 24-25 mila quindi se Bitcoin supera questo conferma che probabilmente in questo punto è iniziato un nuovo ciclo annuale e non è una conferma tecnica ufficiale però molto probabile diciamo, ecco questa cosa qui e soprattutto fa una figura di price action di inversione importantissima perché va a breccare una barra di congestione con due livelli quindi doppio minimo qui e un massimo nella parte superiore quindi in quel caso inizierebbe proprio un nuovo trend questa zona dei 18 mila è qualcosa in close daily deve essere mantenuta e il suo livello di supporto siamo a un tot di giorni dall'inizio di questo nuovo ciclo che sono circa 5 giorni solitamente il mercato può fare 7-8 giorni di ciclo settimanale quindi mi aspetto che magari per un po' di tempo il mercato possa cincischiare un pochettino stare in barra di congestione o andare a chiudere questa struttura facendo anche un pullback magari sulle due medie mobili che si stanno incrociando a rialzo indicando un nuovo trend laterale rialzista oppure una barra di congestione come quella che è avvenuta qui quindi la continuazione in sostanza di questo trend di congestione vedete 1,2,1,2 scusate ragazzi c'è il pad del portatile allora questa è la fase attuale di bitcoin vi faccio vedere invece anche il grafico del CME che è stato ancora una volta forse indicativo di questa fase un po' meglio dello spot in questa fase ma forse l'abbiamo tenuto poco in considerazione perché in realtà ha fatto 47 giorni quindi circa due mensili come barre ragazzi sono 47 barre perché sabato e domenica sono chiusi ma nei giorni sono 69 giorni quindi comunque siamo lì 35 giorni l'uno come mensile però qui non si vede la metà perché questo è un mensile ternario fatto così in effetti anche io l'ho guardato poco perché l'ho abbandonato dopo questa fase cioè lo guardo ogni giorno ragazzi però poi non gli ho dato molta corda in realtà sembra aver segnato proprio nel modo giusto questa fase e in più sia sulla shadow a un minimo il 7 settembre sia in close a un minimo il 6 settembre perché vi faccio vedere questo è un doppio minimo però leggermente più basso quindi ci può stare anche come fase di chiusura del ciclo annuale quindi ci può stare è ancora corto l'annuale ragazzi mancherebbe un altro mese quindi teoricamente è ancora corto però c'è da dire che c'è quella discrepanza con Ethereum che a me non suona per niente bene e voglio vederci chiaro anche per questo che vi sto dicendo che ne parliamo la prossima settimana a frettare conclusioni su queste cose non ha mai senso anche perché poi andiamo a impiastricciare un po' le analisi e insomma visto che parliamo comunque di un annuale visto che a livello operativo dobbiamo sempre seguire questi giorni ha poco senso la questione anche qui livello di resistenza sul CME è sempre lo stesso 24,5-25.000 da chiudere in giornata con la close daily altrimenti non è breccato è molto rilevante questa fase da un mio trading system già vi dico che il livello intorno ai 22,6-23.000 è un livello di resistenza oggi abbiamo toccato 22,3 potrebbe andare ancora un poco 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 più su però in sostanza ci siamo siamo vicini a quello che era un target di estensione per l'intero mese di settembre sulla parte dei massimi quindi da qui in poi ragazzi se fa per esempio 22,5-22,6 da lì in poi è terra di nessuno cioè anche i miei indicatori tecnici sulla volatilità e sul trading di breve indicano che il movimento è stato fatto quindi poi bisognerebbe prendere profitto quindi in take profit oppure seguire il trend in base alle proprie strategie mettendo un trailing stop quindi stando attaccati al mercato e uscire alla prima fase ribassista questo è sono diciamo degli indicatori tecnici che condivido in academy con una strategia mensile che facciamo che fa una sola operazione al mese è interessantissima quindi minimalista come me ragazzi per fare meno operazioni possibili e meno attaccamento ai grafici possibili facendo comunque un gran profitto negli ultimi mesi di ribasso non ha fatto nulla ma non ha neanche perso e questo è molto rilevante ma l'anno scorso aveva tirato su stampato più di un 100% quindi alla grande questa strategia che seguo anche io personalmente proprio con il mio i miei investimenti allora vi faccio vedere invece Ethereum che ha toccato quello che è una struttura che in gergo tecnico di analisi tecnica si chiama Gatekeeper ed è un pattern di inversione ribassista che se confermato teoricamente inverte questa fase di trend e la ritrasforma in una struttura del genere questo è il rischio che c'è proprio se Ethereum non supera questo livello perché Gatekeeper ragazzi l'ha proprio creato alla perfezione è in vista del merge quindi come sappiamo tutto è delicatissimo meno volatilità quindi non esponetevi tanto in queste fasi alla volatilità del mercato perché potrebbe essere appunto una questione problematica il giorno 15 quindi ci potrebbe essere volatilità c'è la Fed come vi dicevo quindi è una settimana delicata fate attenzione se siete trader ad esporvi sulla volatilità assolutamente la leva sui future e quant'altro mi raccomando insomma ragazzi fate molta attenzione quando e come va gestita questa figura di inversione oggi è un bonus una chicca operativa per trader operativi se il mercato rompe i 1008 su Ethereum annulla la figura di inversione sarebbe assolutamente meglio e in questo caso lo fa solo in conferma daily attenzione perché se brecca i 1007 conferma invece la figura di inversione poi da lì bisogna vedere se quella figura di inversione verrà seguita dal mercato o è un fail che poi il mercato torna in quel caso ovviamente si va in stop come tutte le strategie di trading questa è una strategia di trading quindi significa che va gestita in eventualità con trailing stop stop loss e tutta l'operatività di money management che è adatta ai trader quindi mi raccomando non do consigli finanziari ragazzi ma sono video di formazione e questa struttura qui se breccata quindi fa partire il pattern in versione short questa struttura qui se è breccata qui annulla il pattern gatekeeper che è un pattern da debt proprio cioè ragazzi per l'ecchietto funziona benissimo lo siamo da da due anni ma soprattutto va saputo anche maneggiare questa era la data presunta del merge la spostiamo di altri due giorni perché si è allungato e lo rimetto al 15 eccolo qui la questione su ethereum allora ultimo grafico di oggi andiamo a vedere la anzi ultimi due ragazzi vi faccio vedere questa che è la reazione di nasdaq velocemente però perché non serve l'abbiamo analizzato nell'altro video guardate come nasdaq uguale a bitcoin sta facendo il nuovo ciclo mensile il rialzo che abbiamo visto in questi giorni è il nuovo ciclo mensile ve ne ho parlato la scorsa settimana questa volta è stato proprio un orologio svizzero e quindi insomma a volte un po' scioccante da questo punto di vista però è stato proprio un orologio svizzero il famoso martedì 6 settembre però il problema resta intatto anche per nasdaq perché anche qui ragazzi non cioè questo è solo un rimbazzino quindi fin tanto che non supera questi livelli questo è un rimbazzino ragazzi ok e se nasdaq torna indietro e fa un up and down si brucia tutto considerate che io sono longo anche su bitcoin ragazzi perché i miei train system sono entrati quindi io non sto tifando per lo short ovviamente assolutamente però questi sono i dati l'analisi tecnica dei dati io seguo poi le mie macchine i miei train system in questa fase sono entrati long per strategia sia di breve che di medio lungo addirittura poi io ho optato in questa fase della mia operatività proprio per questi anni difficili delle strategie anche di medio lungo che sono molto molto più veloci del solito di quelle che erano gli anni scorsi quindi è possibile anche che poi vadano a uscire fra qualche giorno se le cose si mettono male escono sicuramente a protezione vi faccio vedere l'ultimo grafico eccolo ragazzi questo è il grafico del dollaro quindi l'indice del dollaro americano che ha fatto e ha accompagnato vedete in maniera inversamente proporzionale potremmo dire così quindi variera correlato inversamente ai mercati come l'indice del dollaro è sceso immediatamente i mercati sono saliti perché in questa fase c'è un collegamento duplice tra la discesa dei mercati finanziari e la questione della valuta quindi in realtà ragazzi ricordatevi che il sistema economico il prodotto interno lordo la alta su disoccupazione tutti gli indicatori macro sono stra positivi tranne l'inflazione che è terribile per il resto invece i dati macro sono molto positivi quindi le fasi di ribasso dei mercati finanziari in questo momento sono trainate al ribasso dalla paura di un rallentamento nei prossimi anni e dal tasso di inflazione che fa diciamo abbastanza danni e soprattutto dal fatto che la fed sta pompando via la liquidità sta togliendo la liquidità dai mercati quindi quando il tasso dell'indice del dollaro scende che è il valore della moneta appunto i mercati salgono viceversa perché in questa fase non sempre in questa fase sono praticamente inversamente correlati vi faccio però vedere una questione importantissima cioè l'indice del dollaro è su un livello di supporto che è proprio il canale che abbiamo qui che sta diciamo tenendo questo è il primo canale rialzista e poi c'è l'altro cioè quello qui intorno vedete che insomma adesso dovrei farvelo però più fatto diciamo così ecco vedete qui in questa zona qui quindi quello più di breve però mi interessa invece farvi vedere questa zona questa zona qui ecco questa è la zona di supporto tutta quanta questa zona è una zona di supporto dinamica del trend che sta tenendo il dollaro come moneta straforte da circa il gennaio 2021 proprio con questa super campana rialzista siamo però anche nella fase di up di un super ciclo da 1082 giorni sul dollaro molto interessante perché probabilmente stiamo andando poi a consolidarci su un massimo il problema è che ancora il tempo è tantissimo ragazzi guardate qui quanto tempo c'è qui parliamo del 2024 quindi nulla pieta anche perché parliamo di grafici che sono legati alle manipolazioni della federal reserve quindi decidono loro quando basta ragazzi questo non è un grafico che si muove da solo allora potrebbe essere qui magari il massimo vedete però insomma ci vuole tempo qui non abbiamo nessun segnale ancora di inversione però siamo nella fase centrale e barra diciamo lato destro di questa super struttura ciclica quindi in teoria siccome un ciclo ha una fase di up e poi una fase di down siamo nella fase centrale di questa di questa struttura ciclica quindi potremmo andare ancora a tirar su il trend però magari non abbiamo la stessa identica forza che era qui nella fase iniziale che c'è la campana diciamo esplosiva quindi anche se dovesse andare un po' su potrebbe farlo in maniera abbastanza flebile diciamo non molto non molto alta allora questo è l'attuale situazione occhi puntati mi raccomando questa settimana un super video anche questa volta di 2000 dati da andare a guardare ma soprattutto quelli stra importanti mergi di ethereum ipc della fed e poi ipc anche dell'euro ma tasso di disoccupazione tutta la settimana è una bomba di dati tutta la settimana probabilmente sarà una bomba di volatilità se vi piace sul mercato ci sarà veramente veramente da ridere per oggi è tutto ragazzi noi ci rivediamo nel prossimo video